18-19-20 aprile 2018, Gardena incontra il Salone del Mobile, una kermesse di tre giorni ricca di eventi, convegni e workshop, sono stati invitati anche tantissimi giornalisti internazionali. Stamattina, giovedì, tra i relatori vi era Stefano Boeri, il famoso architetto ideatore e progettista del Bosco Verdicale, che ci ha spiegato quali sono i benefici che ricadono sui cittadini in seguito a una Green City e quindi urbanisti e progettisti dovrebbero pensare proprio in fase di progettazione per avere una città ancora più verde. Nel pomeriggio i numerosi giornalisti della stampa internazionale saranno chiamati a sporcarsi le mani, a giocare in qualche modo in un workshop che prevede la creazione di collage, di vasi, di opere creative e di ingegno e ovviamente rinvaso di piante e anche di supporti per l'orto verticale. Stefano Boeri, noto architetto, gli chiediamo quali sono i benefici concreti che ricadono sulla città per quello che lui chiama la riforestazione urbana. I benefici sono innumerevoli, innanzitutto la capacità che hanno gli alberi di assorbire la CO2, la capacità che hanno le foglie di assorbire le polveri sottili, i micoparticolati che sono quelli prodotti dal traffico che sono i veleni urbani dell'aria, le foglie naturalmente gli alberi sia localmente che anche in un bacino più ampio riducono il riscaldamento delle superfici minerali, quindi riducono anche i consumi energetici soprattutto per il condizionamento dell'aria. Gli alberi hanno una straordinaria capacità di arricchire la biodiversità, abbiamo più di 20 specie di uccelli che hanno edificato sui rami del bosco verticale. Poi ancora c'è un credo meno quantificabile vantaggio psicologico e culturale per chi abita nei pressi, nelle prossimità di un albero. Abbiamo registrato con stupore che per esempio la presenza degli alberi ha cancellato qualsiasi sensazione di vertigine, anche in chi soffre di vertigine, ma poi c'è anche un vantaggio legato al senso di calma, di tranquillità che gli alberi trasmettono, di sicurezza, quindi tutto ciò è solo una parte di quanto gli alberi che sono degli esseri viventi straordinari e sono degli individui, ogni albero è un individuo, ci può dare. Siamo qua con Diego Zambelli, cresce sicuramente la voglia di un giardinaggio cittadino, considera più persone che si dedicano a questo hobby sui terrazzi, sui balconi e perché no anche sui tetti. So che Gardena ha ideato una gamma proprio per rispondere a queste necessità, ce ne vuole parlare? Sì certo, nel 2017 Gardena ha introdotto la gamma City Gardening, che è una gamma di prodotti studiati apposta per i piccoli spazi cittadini e comprende diversi attrezzi come per esempio dei set da balcone, come quello che possiamo vedere qui, che comprendono piccoli attrezzi come rassellini, palette, forbici, studiati apposta per poter lavorare con comodità nei piccoli spazi e anche per essere poco ingombranti. C'è un bellissimo prodotto che vedo alle sue spalle che è quella sorta di orto verticale, è una novità anche quella? Sì certo, questa è una novità 2018, il City Gardening si arricchisce con dei prodotti che vengono chiamati Nature Up che sono delle fioriere che si possono sviluppare in verticale o anche in orizzontale, sono composte da elementi appunto verticali o anche angolari per proprio poter seguire comodamente le pareti domestiche o le pareti per esempio in un terrazzo o in un balcone. Si possono assemblare molto facilmente perché sono già dotate di sottovaso, di ganci, perché nello sviluppo di queste fioriere si può partire da terra e quindi appoggiarsi su una base già fissa oppure si può anche pensare di appendere direttamente la fioriera al muro grazie a dei ganci e a fissaggi che servono appunto per assemblare e comporre come se fosse un grande Lego questa struttura. Un treno sicuramente in crescita, quello del giardinaggio cittadino, ne parliamo col direttore marketing di Gardena Italia. Buongiorno, sicuramente possiamo considerare questa categoria di prodotti che possiamo definire anche come una vita da noi appena lanciata l'anno scorso con i primi strumenti e articoli di questa categoria e adesso integrata con il nuovo sistema Nature Up di giardino verticale che serve appunto per la creazione dell'allestimento di pareti attrezzate con il verbide in piccoli spazi urbani che possono chiaramente presentare il problema di avere poco spazio dove poter diciamo costruire la propria zona verde all'interno o anche all'esterno della propria abitazione e quindi pertanto da questo punto di vista possiamo definirci molto soddisfatti sia per essere stato tra le prime nazioni all'interno del nostro gruppo dove abbiamo presentato questa nuova proposta per la stagione corrente ma anche e soprattutto per l'elevato interesse che sta suscitando presso la nostra clientela. In effetti da questo punto di vista ci sentiamo molto diciamo così consapevoli di aver creato non un semplice e singolo prodotto ma proprio un sistema di articoli e di attrezzature che servono sostanzialmente per soddisfare anche questo nostro bisogno dei nostri clienti principali che sono sostanzialmente gli appassionati di giardinaggio ai quali tendiamo chiaramente a poter offrire quanto più possibile gli strumenti adatti per poter sviluppare la propria passione in buona sostanza e quindi anche la possibilità di riuscire a realizzare e creare spazi verdi all'interno delle proprie abitazioni dove spesso magari abbiamo il problema di spazio può essere sicuramente una novità apprezzata da chiunque. Paragonata a quelle altre nazioni europee a livello di mercato l'Italia come si posiziona? Direi sicuramente molto bene in questo campo e in questo ambito anche perché appunto siamo stati tra i primi paesi l'anno scorso a lanciare questo nuovo sistema che prevede sia la composizione di attrezzi atti all'impiantamento, all'impiantazione del verde all'interno della propria abitazione ma anche e soprattutto all'irrigazione dello stesso quindi non un semplice singolo prodotto ma proprio un sistema completo che serve appunto alla realizzazione di questo nostro progetto chiamato Netura. In questi ultimi anni il desiderio, il desiderio, il desiderio per l'urbanio e la città ha sviluppato molto. Herbert, cosa pensi di questo? Soprattutto i ragazzi che si muovono in le città hanno piccoli spazi, le balkoni, le terracce, ma ancora vogliono il verde. Quindi bisogna trovare un modo di usare la maggioranza di loro spazi. Quindi bisogna crescere, non lieci. Se non hai spazi, ti metti la città. e questo è quello che ci offriamo questo set per. Questo è Natura Up, il nostro sistema verticale. Quindi i gardener hanno fatto alcuni prodotti, soprattutto per questa città, come si chiamate, e potresti parlare di alcuni prodotti? Sì, è vero. Perché se non hai molto spazio, bisogna andare verticalmente, così possiamo avere le planti sull'uomo e per questo abbiamo il sistema Natura Up che ci permette di avere le planti in una forma verticale quindi potresti avere le piazza o le piazza, proprio come potresti. con gioia. Eare che ci sia uniedo bene ma che farve min comanda. c'è sia un punto che sia il cuore Mit Calimati